Oggi è domenica, ci troviamo a Ripateatina per la gara di campionato Ripa 2007, Virtus Castelfrentano, categoria giovanissima, è una partita importante per noi in quanto ci troviamo terzi in classifica, mentre il Ripa ha tre punti più di noi e si trova nella seconda posizione, prima c'è la Virtus Lanciano. E' una partita sentita da tutte e due le squadre. La gara di Antata è terminata 1 a 1. Oggi si gioca la gara di ritorno qui a Ripateatina. Ecco il secondo portiere Daniel e il primo portiere Matteo. La formazione che scenderà in campo dal primo minuto. numero 1 Matteo Francesco d'Ottavio, numero 2 Federico Tucci, numero 3 Lorenzo Coniberti detto Pitbull, numero 4 Guido Colaizzi, numero 5 Gabriele Donofrio che rientra dopo un lungo importunio e parte dal primo minuto. Dopo abbiamo numero 6 Cristian Nasuti, numero 7 Gianluca Malbone, numero 8 Teidi Mata, numero 9 Emanuele Giallonardo Lettolele, numero 10 Michele Daniello, numero 11 Nicola Perrucci. In panchina abbiamo numero 12 Danielucci, numero numero 14 Nicolò Daniello, numero 15 Filippo Ferretti, numero 16 Manuele Caporale, numero 18 Ceroli Alessio. Il mister è di Felice Gabriele, come dirigente accompagnatore c'è il sottoscritto Carlo Iocco, come massaggiatore c'è Giacinto Giallonardo, il papa di Lele. Albiterà l'incontro il signor Cellucci dalla sezione AIA di Chiedi.